La scuola è forte, vediamo se riuscirà ad assorbirla e a rimanere in campo o se dovrà accomodarsi in panchina. Palla a due dunque, con l'arbitro che rimetterà il pallone in mezzo per riprendere il gioco. Vedremo se ci sarà del fair play in campo e se verrà restituita la squadra avversaria. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Mertens, lo ferma ma non controlla. Il difensore spazza in qualche modo. Evita il contrasto. Attenzione perché c'è la caccia del gol e il vantaggio e questa può essere davvero una buona occasione. E supera il portiere e adesso sono avanti e cambia tutto. Tifosi in delirio. Potrebbero aprirsi nuovi scenari ora. Attendiamo la risposta degli avversari. Ottimo il recupero. Può andare in porta. Verdi e c'è il gol del Napoli. È un momento magico. Due gol. Uno dopo l'altro. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Versalico. Vessino. Occhio a Mertens. Mertens! Ha segnato Mertens. Il Napoli continua a impiedire sugli avversari. Li vuole umiliare. Almeno così sembra. Golea dall'orizzonte. Pia Luigi. Continuano a regalare grande calcio. Gol. E non ha l'intenzione di fermarsi. Politano. Bene qui il difensore. Ha chiuso la linea di passaggio. Ha riconquistato palla. Azione che sfuma. Ci sarà una rimessa dal fondo. Rajan Ain Golan. Brutto passaggio. Recupero facile. Occhio alla botta. E c'è il gol. Palla in rete. Due reti messe a segno finora. Davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria. Partita che assume ormai una fisiologia molto precisa. Vessino. Nainggolan. Brozovic. Lancio fuori misura. Palla recuperata senza problemi. Mertens. Ottima occasione. Ha segnato Mertens. è una bella doppietta ma troppo spazio. Troppo passivo l'atteggiamento della ripesa. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Puntuale qui il difensore nel recupero. Prova addirittura la conclusione. Sventa con un intervento pronigioso il portiere. Grande riflesso qui del portiere. Occhio al corner. Ha cercato il gol a effetto con questa sforbiciata. Pallone terminato abbondantemente lontano dai pali. Tentativo coraggioso. Si ha provato. Vessino. Occhio a Verdi. Si aggiusta il pallone pronto per il calcio d'angolo. Palla messa in mezzo. Non si fida. Spazza via di pugno. Posizione buona per il cross. Palla in out. Sarà rimessa laterale. Cayecon. Icardi. Rajana Ingolan. Pallone recuperato senza problemi qui. Passaggio impreciso. Pallone intercettato. C'è spazio per andare. Attenzione pericolo. È tutto pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Pallone in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Può crossare. Riuscita a fermarlo. Riuscita a fermarlo. Maurito Icardi. Occhio a Merkens. Occhio al tiro. Forse un po' sorpreso qui il portiere Stefano. Ha calciato da distanza notevole. Era una botta davvero terrificante. Credo l'abbia vista all'ultimo. In effetti non era comunque un intervento semplice data alla violenza del tiro. Avvero incontenibili. Continuano a cercare il gol e a trovarlo. Vessino Politano Ragiana in golà. Continuano a girare. C'è spazio per lui. Era una grande occasione. Non l'hanno sfruttata. A metri. Prova a andare. Che parata qui. Un intervento davvero pregevole. Ha evitato un gol sicuro. E il pallone finisce in gol. Una partita magnifica. Impreziosita da questi tre gol. Continuano a regalare grande calcio. Gol. E non hanno intenzione di fermarsi. Nengola. Palla nuovamente in possesso. Si libera la grande. Ha segnato Merkens. Ripartenza micidiale. L'attaccante si è presentato solo davanti al portiere. E non ha sbagliato. Ha sfruttato la perfezione. La chance che gli è capitata. Bravo. Il risultato comincia a rassumere veramente promozioni molto pesanti. Bene qui il difensore. Ha chiuso la linea di passaggio. Ha riconquistato palla. Tenta il tiro. Rispinge il difensore. E si chiude qui. Inizia la ripresa del match. Finora davvero a senso unico. Asamoa. Buono il recupero. Possono ricominciare. Gioco fermo. C'è l'offside di Cagliecon. Dries Mertens. Palla che esce. Rimessa con le mani per l'Inter. Politano. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Mertens. Prova Mertens. C'entra in pieno il difensore. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Occhio al corner. Mertens era tra gli osservati speciali del match. Stefano ti chiede un giudizio sulla prestazione del belga nei primi 45. Allenatore che riesce di toglierlo. Forse deluso dalla sua prestazione. Anche il pubblico non sembra, sentite, soddisfatto. Attenzione. La difesa continua a rifugiarsi in angolo. Sono in affanno. Occhio al tiro della bandierina. Attento qui il difensore che allontana. Lasciano la mano. Occasione d'oro. Colpisce la traversa. Non è finita. E arriva il gol del Napoli. Si vede che la sua giornata oggi non ha sbagliato nulla finora. Trovando il gol da ogni posizione e in ogni maniera. Non ha preso fiducia. I difensori hanno provato a stringere la marcatura. Ma non è servito. Dorca Valera. Vessino. Defrae. Providenziale Defrae. Occhio a me. Prova a Mertens. Palla nuovamente in calcio ad angolo. Sono andati a un passo dal gol. Il portiere ci ha messo una pezza con un intervento d'applauso. Ha tolto la palla dalla porta con un balzo felino. Ma come ha fatto? Allontanano il pericolo. Difende bene il pallone. Occhio alla botta. Portiere che sventa la conclusione senza nessuna difficoltà. Una sicurezza per tutta la difesa la sua. Eh sì, Pier. Non può concedersi distrazioni. Sono guai. Occhio al corner. Non può sbagliare da lì. Ci sarà un nuovo calcio ad angolo a disposizione. Corner battuto in mezzo. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Grandissima lettura difensiva. Occhio a Verdi. Cagliecon. Cagliecon. Non ha sbagliato qui. Cagliecon. Trova il gol. Ah là là. Gol d'autore questo. Che firma. Implacabile lo spagnolo quando vede la porta. Questa partita che assume ormai una fisiologia molto precisa. Azione interrotta. Un tiro pazzesco. Nulla da fare per il portiere. Una botta tremenda. È un gol che dimostra ancora una volta le straordinarie doti balistiche di questo giocatore. Un gol straordinario. Ha calciato in porta la distanza siderale. Ha trovato di sorpresa il portiere. Con questo gol ha dimostrato di saper colpire anche da lontano un missile che il portiere. Non ha visto nemmeno partire. Cambia nel fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Mertens. Prova Mertens. Continua la pressione. Ancora calcio ad angolo. Pallone in mezzo. Attenta qui la ripesa. Palla allontanata. Occhio al tiro. Attenzione il pallone lì. Il Napoli conquista la rimessa con le mani. Non credo che vorrà rivedere quello che ha combinato prima. Si è mangiato un gol davvero incredibile. Mamma mia. Allen. Prova ad andare. E il tir. Prova a calciare. Traversa e gol. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. De Vrij. Borca Valera. Politano. Borca Valera. Allen. Dries Mertens. Capisce tutto ad Evrai. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Spezzato bene qui il gioco avversario. Brava qui la difesa. Finisce in fuori gioco Mertens. Allenatore che toglie uno dei protagonisti della sfida di oggi. E ci sono gli applausi. Una vera e propria standing ovation per lui. Ha giocato una buona partita Pierluigi. Attento. Concentrato. Buono il recupero del Napoli. Mertens. Verdi. Intervento è finito. Occhio al tiro. Parata straordinaria di Andanovic. Come un gol. Ci sarà ancora calcio d'angolo. Occhio al pallone in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Pericolo. Ecco il tiro. Vessino. Asamoa. Perisic. Brutta disattenzione. Pericolosa. Tentativo coraggioso. Conclusione che si è spenta di poco sul fondo. Avrebbe meritato il gol solo per il gesto tecnico. Risolve lui. Robbio. Pallone basso e teso. Palla deviata dal difensore che si infila alle spalle del cordiere. Gli autogol si sa fanno parte del calcio. Non credo che il difensore potesse farci molto in questa occasione. Direi no Pier. Forse voleva solo respingere la conclusione ma la palla gli è schizzata sul corpo prima di terminare in rete. C'è il fallo. Sarà punizione per il Napoli. Vado a bordo campo. Allora da Matteo Barzaghi per sapere a questo punto quanto manca alla fine. Ultimo giro di orologio. 60 secondi allo scopo. Occhio al calcio di pulizione per il Napoli. La gioca corta. Grande intervento del portiere. Palla nuovamente in calcio d'angolo. Pallone in mezzo. Buono l'anticipo del difensore. Eccolo qui.